Un record finora mai raggiunto secondo i dati del portale ufficiale del governo. Sono stati, lo riporta Lanza, 1.049.384 i Green Pass scaricati ieri dagli italiani. 914.000 sono stati scaricati dopo i tamponi fatti, mentre 130.000 in seguito a vaccinazioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri per la prima volta le terze dosi, 49.660, sono state più delle prime vaccinazioni, che si sono fermate a 44.376. Gli italiani completamente vaccinati ieri sono stati 89.078. Nella regione campagna l'ultimo bollettino parla di 158 positivi nella giornata di ieri a fronte di 10.287 test effettuati, 6 decessi nelle ultime 48 ore. Per quanto riguarda i posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli di terapia intensiva occupati 17. I posti letto di degenza disponibili 3.160, quelli di decenza occupati 185. A Torre del Greco intanto continuano ad aumentare le guarigioni, 20 quelle registrate ieri, certificati anche 8 nuovi casi di positività al Covid-19. Muta così il bilancio della 562esima giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 12, totale di isolamento domiciliare 80, totale guariti dal Covid-6775, totale decessi 176.